Eccoci ragazzi, nuovo videotech come vi avevo promesso nei giorni passati, supportatelo subito in un bel mi piace, vi porterò le 5 più importanti informazioni che stanno trapelando in queste ore relativamente alla nuova line up di iPhone 16. Già abbiamo dato qualche bella chicca nei giorni passati, adesso ve ne parlerò dei 5 più importanti rumors e leaks della famiglia dell'iPhone 16 e uno aggiuntivo, quindi saranno mettetevi 6 comodi e partiamo subito, un bel mi piace ed iscrivetevi per tanti nuovi aggiornamenti. Vi ricordo prima di iniziare come sempre lo sponsor del video Enebba, ogni acquisto che farei sul sito supporterete il mio canale, trovate il link in descrizione, troverete videogiochi nuovi, gioia del passato, gift card, abbonamenti, chi più ne ha più ne metta e soprattutto iscrivetevi sul mio canale delle offerte di Telegram con tantissimi sconti giornalieri. Mi sono fatto una bella scaletta perché sono ben 6 le notizie di cui vi devo parlare. Partiamo innanzitutto dalla colorazione l'iPhone 16, secondo l'analista Apple Ming Ki Kuo dovrebbe introdurre un nuovo colore. Avete capito bene, sembrerebbe che la famiglia dell'iPhone 16 e l'iPhone 16 Plus avremo il nero, il blu, il verde, il bianco e il rosa. A quanto pare il bianco dovrebbe andare a sostituire il giallo, cosa molto curiosa. Quindi a livello di colori dovrebbe esserci questo cambiamento per quanto riguarda la famiglia non Pro, per quanto riguarda ancora i Pro ci sono pochissime indiscrezioni a riguardo. Ma vediamo invece le altre importanti leaks e rumors sulla famiglia dell'iPhone 16. Altra notizia di cui vi avevo aggiornato nei giorni passati, display più grande. Si parla dell'iPhone 16 Pro Max che passerà dai 6,7 ai 6,9 quindi dovrebbe essere leggermente più alto. Vi ho fatto vedere nei giorni passati, vi lascio in alto a destra, in sorta di mock-up che farebbero presagire queste dimensioni. Quindi dovrebbe essere per logica più leggero ma più allungato per forza di cose, quindi cosa curiosa. Con il fatto che avremo ovviamente uno 0,2 in più in pollici dovremo per logica avremo uno schermo più grande. Però non per forza per la questione del passaggio dai 6,7 ai 6,9. Poi semerebbe che Apple stia utilizzando la tecnologia Border Reduction Structure, la BRS. Questa a quanto pare permetterebbe di ridurre ovviamente le cornici, quindi non soltanto il display aumenterà proprio in proporzione e in pollici, ma con il fatto di avere le cornici più strette dovrebbe proprio aumentare la capacità dello stesso. Adesso si parla, secondo queste informazioni, di un bordo del display che dovrebbe passare a 1,5 mm rispetto agli attuali 2,2 mm che troviamo sui modelli, ad esempio iPhone 14. Notizia invece di oggi, molto interessante, che è stata riportata nelle ultime ore, si parla addirittura di una fotocamera principale più avanzata. Sembrerebbe che proprio il 16 Pro Max dovrebbe pompare e non poco, quindi dovrebbe essere proprio il top di gamma ancora di più rispetto al passato. Hai visto quest'anno con la questione iPhone 15 Pro Max e iPhone 15 Pro c'è lo stacco della grande angolare, quindi con il fatto dello zoom aumentato. Bene, quest'anno sembrerebbe che l'iPhone 16 Pro Max dovrebbe avere ancora di più un passo in avanti rispetto a tutti gli altri, anche al Pro diciamo più piccolino. Si parla infatti di una fotocamera principale più avanzata con un 12% di grandezza proprio in termini di spessore più grande, con un sensore Sony si parla di un IMX903, 48 megapixel, convertitore analogico digitale a 14 bit e una conversione delle dati e delle immagini di qualità con la Digital Gain Control DC per una migliore gamma dinamica che riporta questa informazione e appunto meno dispersione del rumore. Si parla inoltre di una fotocamera ultra grandangolare da 48 megapixel rispetto agli attuali 12 megapixel dell'iPhone 15 Pro Max, quindi diciamo tutto più grande. Che cosa manca per essere ancora più grande questo iPhone 16 Pro Max? Ovviamente batteria aumentata e maggiore capacità di archiviazione. In che senso maggiore capacità di archiviazione? Sembrerebbe che l'iPhone 16 Pro Max dovrebbe arrivare a uno spazio di archiviazione massimo nel modello top di gamma a 2TB come attualmente è l'iPad Pro, anche per il fatto che come sapete Apple è passate alle memorie di archiviazione flash, le NAND QLC, le Quad Level Cell, a densità più elevata per quanto riguarda ovviamente gli storage più alti. Vi ho detto spazio di archiviazione aumentata, chiudiamo con la batteria più grande, ve ne ho parlato nei giorni passati, ne ha parlato nuovamente l'analista Ming Kikuo che ha due diverse informazioni. O la batteria sarà la stessa ma a quanto pare avrà maggiore durata oppure riusciranno a ridurre la dimensione della batteria attuale con la stessa durata attuale. Quindi dovrebbe avere una vita più lunga, una maggiore durata alla batteria dell'iPhone 16 Pro Max, ci sarà ovviamente anche il passaggio al nuovo processore eccetera eccetera eccetera, che ovviamente sapremo nei prossimi giorni, nelle prossime settimane. Sta di fatto che l'iPhone 16 Pro Max di quest'anno dovrebbe avere una durata della batteria di circa 30 ore rispetto agli attuali 29 dell'iPhone 15 Pro Max, però a quanto pare cercando addirittura di risparmiare spazio all'interno del dispositivo. Questi sono gli ultimi rumors e leaks sulla line up dell'iPhone 16, sei cose che dovete sapere. Fatemi sapere qui sotto nei commenti che cosa ne pensate, supportate il video, noi ci vediamo ad un prossimo video tech. Grazie. Grazie. Grazie.